Ciao ragazzi, un gran in bocca al lupo a Padel Channel. Ciao, sono Davide Bonora, a tutti gli appassionati di Padel e magari anche a qualcuno di basket, un saluto e ci vediamo presto sul nuovo canale Padel Channel. Desearle molte felicità per questo nuovo progetto, un saluto molto grande. E voi siete connessi. Un saluto. Ciao.